Ciao ragazzi, questa volta vi parlo di The Future Perfect sono le 4 matite occhi, non solo occhi, poi ne parliamo di Neve Cosmetics ho fatto già la presentazione sul sito, sullo shop Effetto Bio e sapete che c'è anche il blog, quindi sul blog di Effetto Bio ho già fatto la presentazione, magari ve l'andate a leggere se volete le descrizioni nei dettagli dei colori, il comunicato stampa e tutto il resto ci sono anche le foto ufficiali di Neve, però io vi faccio vedere del mio HowAway, che comunque qui trovate anche il codice sconto per un ulteriore sconto, quindi Neve le metterà in offerta noi ovviamente come sempre accettiamo l'offerta di Neve quindi le trovate già in offerta, sono un euro del 10% in più su tutto l'assortimento in negozio e online con il codice sconto o dicendo che avete visto il video avrete un ulteriore 10% su tutto l'assortimento quindi queste alla fine le pagate con il 20% di sconto va bene, allora la location è diversa perché non sto bene però ci tenevo a farvi il video quindi perdonate qualche piccolo errore di edizione insomma più del solito e iniziamo con Enigma quindi iniziamo a farvi vedere cose che vi piacciono allora sono ovviamente come al solito 12 mesi di Pao e l'Inci è difficile da farvi vedere ok noi tra l'altro le abbiamo già messe preordinabili e ora le andiamo a caricare nel sito quindi troverete anche le altre info quindi come l'Inci e il primo colore è Enigma che vi dicevo essere un blu cobalto elettrico intenso opaco allora è opaco, effettivamente non ha glitterini cose strane ovviamente anche gli swatch poi ve li rilascio e soprattutto vi lascio le applicazioni perché magari su Instagram perché comunque mi rimane più facile fare la foto al cellulare che non dal tablet allora questo è il colore e devo dire che è un colore bellissimo almeno a mio avviso scrive bene anche dentro l'occhio molto bello anche come base e vi avevo avvertito degli errori e è uno di quei colori che io cerco sempre ora vi faccio una piccola parentesi magari vi può interessare io avevo acquistato questo qui di Wicon tempo fa e vi avevo detto quanto in realtà mi aveva deluso invece questa differenza di quello Wicon devo dire che assolutamente scrive bene anche all'interno dell'occhio cosa che ripeto quello Wicon non fa e costa anche di più poi radio se non erro vediamo se sì allora vi faccio vedere l'inci mentre vediamo se mette a fuoco sì più o meno allora grigio medio shimmer respirato alle mille voci delle trasmissioni radio metallico riflessi ma banali azzurri rossi verdi viola che danno origine vabbè una magnetica luminosità bellissimo questo come base bellissimo io questo non ho zardato ancora a metterlo dentro dentro l'occhio perché comunque portando le lenti il fatto che è è metallizzato però è leggermente vediamo se è glitterato vedete comunque ho un po' paura e devo dire che è quello che meno di tutti rende in foto perché io ho visto anche altre foto devo dire che questo proprio purtroppo non rende niente comunque effettivamente ha questi glitterini piccolini e dei riflessi molto molto particolari forse la meno bella e la meno particolare tra tutte le quattro matite anche se ripeto io sono fissata con i grigi quindi comunque anche perché quelle che state vedendo sono le mie di matite quindi la prenderò per gli smoky però non per dentro l'occhio e forse è anche molto bella ma questa ve la devo provare con una base nera sotto e questa come riga di eyeliner poi gioia che invece è bellissima è questa qui ha un so che di cincilla ma è un pochino più particolare è un rosa beige metallico dal certo tono freddo l'euforia di troversi è un nuovo sistema cellulare vabbè non vi reggo poi le cose in più perché tanto è scriventissima veramente scriventissima e questa non ha è sempre metallizzata quindi ha questi riflessi metallici però ha meno glitter all'interno che comunque come vi dicevo sono micro glitter vedete sono molto grandi quindi comunque anche per chi non ama l'effetto glitterato ma ama l'effetto metallizzato come me effettivamente sono ottime e questa vediamo se riesco a sfumarvela un pochino a mio avviso invece quando viene sfumata tira fuori questi glitter da molto carina anche perché vedete che effetto bagnato da poi come illuminante serale perché ripeto tira fuori i glitter quindi è abbastanza evidente oppure al centro delle labbra quindi molto molto carina ripeto soprattutto guardate sfumata è fantastica se no come base è carinissima anche questa questa l'ho provata ma non avevo le lenti l'ho provata all'interno dell'occhio e comunque scrive cioè apre lo sguardo in maniera incredibile poi io dico la verità da quando ho visto le anteprima a che le ho avute tutte tra le mani la mia preferita è stata questa che è pianeta scusate lo smalto che ovviamente non metto a fuoco ok è fantastica vi leggo è viola magenta mutante della delicata satinatura lilla scuro sì poi look spaziale ok no è fantastica allora io appena l'ho vista e l'ho aperta ho detto vabbè è opaca cioè sembrava opaca almeno non so se vedete qui poi invece ho visto che con il battere della luce ha proprio questa satinatura e devo dire che mi ha ricordato molto a primo a primo acchitto il eroin di mac e ce la voglio provare vicino comunque l'ho provata anche sulle labbra devo dire che è molto molto bello ovviamente il trucco occhi va fatto in un certo modo è molto particolare però è bellissima ovviamente però nasce come metita occhi e devo dire che dentro l'occhio è fantastica soprattutto sul verde e sul marrone io sono una grandissima fan del viola ho tantissime di te viola ma questa non è solo viola tende un pochino al al porpora dei riflessi porpora anche prugna è un colore molto particolare e devo dire che comunque rende abbastanza bene in camera ora vi lascio anche tutti gli swatch e se vi può interessare magari su instagram posso anche degli swatch in relazione ad altri prodotti o magari ve li faccio qui non so vediamo insomma anche come quanto ci metto a testare poi tutte le matite e poi magari vi faccio anche i dupe detto ciò piccola torniamo insomma diamo un senso al video devo dire che secondo me sono tutte belle matite insomma a parte questa che come sapete non è non è neve sono tutte belle matite molto 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 scriventi appena le si poggia non è come confetto che fa fatica sono abbastanza morbide ma mi sembrano anche abbastanza resistenti soprattutto comunque vedete anche quando le è andate a sfumare però non perdono non perdono di colore insomma mi piacciono ripeto ovviamente io non sono una fan delle matite neve dentro l'occhio se non fissate però devo dire che comunque i colori sono talmente accattivanti che comunque sono contenta di averle prese fatemi sapere se le prendete se non le prendete come preferite che io faccia il video con i dupe oppure se preferite la foto insomma solite cose ciao